Il 4 febbraio ci sarà la prima uscita, con l'uscita dell'11 e del 13, di febbraio sempre con i carri. Poi avremo animazione, avremo musica, avremo, diciamo, festa, carnevale. L'uscita dell'11 però non sarà in via Roma perché è in contemporanea con il mercatino degli usati e dei lobbisti, per cui ci sposteremo in piazzale San Francesco, ma è nella locandina, è tutto previsto. Ma diciamo che più o meno sono uguali, lo spirito è quello del divertimento, quella più giocosa, più bellina sicuramente sarà il martedì perché ci saranno tanti bambini e questa sarà quella più da bambini, cioè da bambini, con più presenza, più apprezzata, perché proprio è fuori la domenica, sai, siamo sempre un po' più abituati al divertimento, invece il martedì andiamo sempre più. Ma in carri abbiamo le torri quest'anno e poi abbiamo un castello dell'anno scorso, più o meno sì, però sarà una sorpresa, dai.